Colpito da un malore durante un'immersione, un istruttore di sub trevigiano di 55 anni, Fabio Pavan, ha perso la vita oggi in Sardegna dove si trovava in vacanza con la famiglia. Insieme ad altre otto persone era partito con un'imbarcazione di un diving di Villa Simius, destinazione alla zona di Torre delle Stelle, località molto conosciuta e frequentata della costa sudorientale dell'isola. A largo il gruppetto doveva immergersi per raggiungere un relitto, lisonzo, tra i 40 e i 50 metri di profondità, un genere di immersione in cui Pavan aveva già esperienza. Raggiunto il punto in cui si trova il relitto, si sono tuffati in acqua. Non è chiaro se il 55enne sia stato colpito dal malore che si è poi rivelato fatale in discesa o in risalita. I sub che gli erano più vicini si sono accorti che stava male, lo hanno subito soccorso riportandolo in superficie mentre dalla barca è partita la richiesta di aiuto al 118. Le prime manovre per rianimare Pavan sono state eseguite a bordo, quindi sul posto sono arrivati due mezzi della Capitaneria di Porto di Cagliari e l'elisoccorso del SUEM, ma il sub che avrebbe compiuto 56 anni il prossimo 18 agosto non si è più ripreso. Sul posto per le indagini anche i carabinieri.